I loro obiettivi politici, ministri, palazzi del governo, giornalisti, progettavano di agire in qualche modo nelle prossime manifestazioni no green pass del fine settimana a Roma. Nei messaggi qualcuno si spingeva a immaginare attacchi con droni esplosivi al Parlamento, di far saltare i camion delle tv. Le perquisizioni sono scattate stamane per otto persone tra Milano, Bergamo, Reggio Emilia, Roma, Padova. Si tratta di cinque uomini e tre donne sulle chat Telegram. Sequestrate si facevano chiamare i guerrieri, sono indagati per istigazione a delinquere. Aggravata. Quando, come dire, da questo aspetto, quindi l'incitamento all'odio e alla violenza si passa all'acquisto di armi e poi magari a concretizzarlo attraverso un tentativo di esasperare una manifestazione e portare avanti azioni di violenza è qualcosa che già, secondo me, segna un passo e fa una differenza dal classico leone da tastiera. Nessuno aveva precedenti specifici né particolari appartenenze politiche. Apparentemente cittadini comuni, un dipendente di un grande magazzino, un cassi integrato, un dipendente di una ditta di ristorazione, solo una di loro era stata vicina a movimenti autonomisti veneti, ma in rete avevano cominciato a organizzarsi, progettavano di acquistare armi. Stavano incitando tutti i partecipanti alla chat a comprare delle armi e a utilizzare le armi in occasione delle manifestazioni. La procura di Milano ha ritenuto credibile il rischio di un passaggio all'azione. A casa di uno degli amministratori sono stati trovati sfollagente, spade, spray al peperoncino. Il più anziano invece aveva alcune pistole e fucili regolarmente detenuti per fini sportivi.